good night juventini bene addossate le colpe che c'erano da addossare al facente funzioni max allegri panchina aro della juventus in questa notte uggiosa piovosa non so se da voi piove qui in emilia sembra di essere nel periodo del diluvio universale di noè infatti ho l'arca parcheggiata fuori da casa non sto scazzando fortunatamente voglio parlare dei costruttori e dei distruttori così come li avete visti in copertina perché ho dato questo titolo ho dato questo titolo perché io sono convinto che nella vita ci sono persone che sono creative sapete che youtube a noi ci chiama creators no perché perché portiamo contenuti no però gli stessi contenuti che noi portiamo possono essere creativi e possono essere distruttivi nel senso che se uno porta argomenti interessanti che possono essere fruiti da persone per migliorare la propria conoscenza la cultura per esempio non so fumetti cinema scienza cucina qualsiasi argomento voi siete interessati oppure anche per chi vuole magari avere opinioni differenti sul calcio come il caso del mio canale perché non è che porto cultura ci mancherebbe altro porto porto la mia opinione sul calcio no l'opinionista diciamo no poi ci sono i distruttori quelli che fanno dissing che parlano male degli altri quelli che distruggono tutto quello che toccano che sono cattivi sono hanno un animo nero perché perché sono persone che non hanno non hanno creatività hanno delle vite probabilmente sballate insomma ci sono i costruttori e distruttori nella Juventus c'è un unico personaggio che in stile Darth Vader prima Anakin Skywalker poi Jedi caduto e diventato signore oscuro dei Sith Darth Vader ha fatto il passo dall'altro lato dal lato chiaro al lato oscuro sto usando termini Star Wars volutamente perché sapete quanto io amo questa saga e questo questo mondo che è stato creato da George Lucas nel 1977 che è colui che è passato dal lato chiaro al lato oscuro chi se non Andrea Agnelli perché sì perché Andrea Agnelli che non ho messo volutamente in questa in questa copertina o meglio l'ho messo dalla parte destra avrei dovuto metterlo anche dalla parte sinistra è all'inizio dell'epopea marottiana contiana un costruttore perché lui viene a piedi pari a sostituire il trio simpatico con bolle gigli blanche secco che avevano fatto solo dei pasticci e basta nella Juventus costruire tutti gli Juventus imbarazzanti con degli allenatori imbarazzanti portano subito Del Neri il quale fa un campionato fallimentare perché non è all'altezza della Juventus capiscono subito che Del Neri non va bene senza che ci siano Allegri Out Del Neri Out o sentimenti popolari non era gradito però hanno capito che non andava bene e con un colpo di genio un vero e proprio colpo di genio prendono un allenatore che fino ad allora non aveva mai allenato in Serie A mai perché quando lui era stato ingaggiato dall'Atalanta lui si dimise prima che iniziasse il campionato quindi parliamo di Antonio Conte Marotta che nel frattempo era già arrivato iniziò a fare una campagna acquisti intelligente e oculata pensate nel giro di due anni tra il primo e il secondo anno costruì spendendo poco o niente questo centrocampo Vidal, Pirlo, Pogba, Marchisio il primo anno c'erano Pirlo, Vidal e Marchisio speso 16 milioni per Vidal zero parametro zero per Pirlo zero perché era uno della primavera ed era appunto diventato titolare in Serie B Marchisio l'anno dopo con un milione di liberatoria prendono Pogba con 17 milioni Marotta ha costruito uno dei centrocampi più forti d'Europa secondo solo quello del Barcellona all'epoca a mio modo di vedere infatti purtroppo perdiamo la finale 2015 e uno dei centrocampi più forti che la Juventus abbia mai avuto in assoluto con 17 milioni 16 più uno la storia è inutile che ve la racconti vinciamo Scudetti su Scudetti Conte inizia, ne vince tre poi quando Conte da di matto perché sapete che Conte è un grandissimo allenatore ma sbrocca prima o poi dovrà fare il salto di qualità in Europa perché mi aspetto che prima o poi magari chissà lo farà con noi un giorno chissà l'importante è che lo faccia perché altrimenti diventerà un allenatore da campionato e non da coppa no? e questo sarebbe un marchio indelebile che lui non riesce a prendersi di dosso stavo dicendo vince tra Scudetti Conte Conte da di matto i giocatori sono stanchi e non ne possono più di questo martello pneumatico e praticamente chiedono l'esonero di Conte Conte viene mandato via e al suo posto inaspettatamente viene preso quel Massimiliano Allegri che è stato mandato via da Berlusconi il quale definì Allegri o che di caccio non capisce un caso traduco per chi non conosce il mezzo popadano questo qui non capisce niente di calcio tutti gli uventini sgomenti ha tirato le uova a fischiare io nel mio piccolo voi non lo potete sapere ma vi dovete fidare dissi a mio padre, a mia madre, a mio fratello, ai miei amici guardate che questo qui secondo me è l'allenatore che ci vuole adesso per quello che ha lasciato Conte perché la squadra comincia ad essere forte se fanno due o tre innesti questo qui ti porta a vincere lo Scudetto sicuro ancora per un paio d'anni io ho detto un paio d'anni e ne ha 25 non mi sono sbagliato Allegri che è stato un gestore un normalizzatore ha fatto sì che la Juventus vincesse Coppa Italia il campionato addirittura andasse in finale due volte di Champions League la prima non gli imputo nessuna colpa quella persa a Berlino non gli imputo nessuna colpa perché ci ha messo una mano anche l'arbitro Cacchia con quei rigori allucinanti non visti su Pogba fatto da Dani Alves e poi perché onestamente la Juve la partita l'ha anche giocata un po' bloccati Pierlu e Vidal e se si blocca il centrocampo vedete come va a finire però per il resto insomma è anche Tevez insomma lui di colpe lì ne ha veramente poche cosa che invece non è più accaduta due anni dopo a Cardiff dove lui mise in campo nel secondo tempo nel momento scelerata a difenderlo 1-1 e se tu ti metti a difendere con il Real Madrid viene preso a pallonate difatti la partita finì 4-1 e per Demo in una maniera vergognosa la finale del Champions League insomma i costruttori vengono riconosciuti da parte mia in Agnelli che crea un nuovo progetto Marotta e Conte e la continuazione del primo Allegri però però tra il 2017 e il 2019 è così che si insinuano i sit tra i Jedi perché conosce Star Wars e sa cosa sto dicendo tra il 2017 cioè la sconfitta di Cardiff il 2019 succede qualcosa si rompe qualcosa Allegri chiede ricambi dei giocatori e aveva ragione perché c'erano giocatori che erano ormai finiti la società picche non gli dice di sì praticamente mantengono questi gli vanno a comprare soltanto giocatori di secondo piano veramente scarsi e la Juventus vince di inerzia lo scudetto del 2018 e lo scudetto del 2019 con Allegri ma viene buttata fuori malamente dalla Champions League facendo tra l'altro avendo Ronaldo avendo appunto fatto qualcosa che non andava bene arrivano i distruttori perché arrivano i distruttori perché quando arrivò alla Juventus Agnelli come il presidente portò Marotta del Neri e Paratici che era il braccio destro di Marotta finché Paratici era colui che andava a vedere i giocatori poi ne andava a parlare con Marotta e poi decidevano il da farsi insieme col presidente era un triunvirato che lavorava bene e portavano a Conte prima e ad Allegri poi i giocatori di grande qualità i giocatori adatti al gioco che volevano fare i due differenti allenatori quando Marotta disse Ronaldo non va bene proprio nel 2019 Ronaldo non va bene Ronaldo non lo dovete prendere non lo dovete prendere ci fu una lite ci fu un grande problema perché? perché Agnelli infatuato da Ronaldo come tutti noi juventini è spinto da Paratici che nel frattempo voleva fare le scarpe a Marotta si ruppe il giocattolo ed è lì in questo momento che Marotta Conte non ci sono più perché Conte nel frattempo è andato via rimane Allegri ma Allegri viene mandato via e Marotta viene praticamente sidurato qui il nostro presidente Andrea Agnelli che fino a quel momento era considerato il nostro presidente Andrea Agnelli sbiella passa al lato oscuro diventa un sit da Jedi costruttore diventa un distruttore un sit inizia a promuovere cani e porci amici e parenti cugini alla Juventus promuove Paratici direttore sportivo Paratici non è assolutamente all'altezza Nedved diventa vice presidente quasi esecutivo nel senso che comincia anche lui a gestire scelgono l'allenatore vanno a prendere salvi che è un ottimo allenatore ma a livello psicologico a livello mentale non era adatto per allenare la Juventus tant'è che nonostante vincesse lo scudetto l'anno subito che arrivò lo esonerarono subito poi dopo altra cavolata seschi pedale andare a prendere andare a rovinare secondo me la carriera a un pirlo che avrebbe dovuto fare la gavetta così come era stato messo all'Under 23 la Juventus B chiamatela come volete è la next game appunto invece promosso subito per silurare infatti fuori la Sarri promosso subito l'allenatore in prima squadra non fece male ma non fece neanche bene perché non entrò mai in lotta per lo scudetto e la Juventus potenzialmente la squadra per entrare in lotta scudetto e ce l'aveva quindi promuove pratici grande errore mette 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 Ned in ruoli dirigenziali che non gli competono e di cui non è in grado perché Ned diciamo che di fatto non è che ha fatto tante cose arriva arriva Pirlo che è un suo amico e lo mette in prima squadra poi licenzia Pirlo e va a richiamare Allegri insomma improvvisamente Agnelli sembra impazzito sembra un personaggio quasi la nemesi di se stesso di quello che era prima tutto ciò di bello che era stato fatto che era stato costruito da Conte Marotta Agnelli appunto il primo Allegri e anche da paratici perché no come talent scout viene distrutto nel giro di poco tempo la Juventus inizia a non vincere più nulla perché la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana di Pirlo sono le noccioline le bricioline di un banchetto luculliano a cui la Juventus è sempre stata abituata a partecipare vincendo sistematicamente gli scudetti ma non negli ultimi nove parlo della storia della Juventus perché anche quando la Juventus non li ha vinti che è arrivata seconda perlomeno ha lottato per lo scudetto invece già con l'anno di Pirlo si inizia a non lottare più poi gli ultimi due anni ne ho parlato nel video di rinotte sono sotto gli occhi di tutti non siamo mai entrati in lotta per lo scudetto non siamo mai entrati in lotta per vincere la Champions League e non siamo neanche entrati in lotta per vincere l'Europa League di fatto perché nel momento in cui doveva fare il salto di qualità cioè l'altra sera con Siviglia abbiamo visto una Juventus che è stata presa a pallonante da una squadra di ex giocatori vecchie glorie forti ma vecchie glorie Rakitic scarto del Barcellona Navas scarto del City Suso scarto del Milan Lamela scarto della Roma e del Tottenham cioè una squadra di scarti che ha messo in ginocchio la Juventus i costruttori e i distruttori se io dovessi avere un'immagine ideale di questo mio video vedo soprattutto questo un personaggio con la faccia un po' strana la faccia un po' se ci fosse Gianni Brera credo che lo chiamerebbe Abatino così come chiamava Gianni Olivera in campo ecco questo signore dà la faccia da Abatino che non deve essere usato in eccezione negativa che osserva tutto silente ogni tanto fa una dichiarazione a Villar Perosa ogni tanto dà fiducia a suo cugino ogni tanto dà fiducia all'allenatore ogni tanto dà fiducia a qualche giocatore però non si espone mai io sapete che l'ho soprannominato Ponzio Pilato avete capito che sto parlando di Gianni Elkan adesso che la storia recente della Juventus dall'avvento di Andrea Agnelli alle dimissioni e non ho voluto inserire il contesto extracalcistico in questo video perché vorrei solo parlare del risultato sportivo in questi anni del potentato di Agnelli che è durato fino a dicembre poi di fatto perché si è dimesso a gennaio quindi è durato fino a dicembre quindi anche in quest'anno c'è stata l'imprimatur la campagna acquisti tutto quello che è stato fatto è stato fatto da Agnelli sempre quindi come sito e non più come i Jedi Elkan adesso è lago della bilancia del futuro perché il futuro della Juventus potrà essere soltanto in due modi o fatto da costruttori nuovi quindi ricostruzione oppure una continuazione logica e perversa della distruzione che è in atto da qualche anno alla Juventus se Elkan prenderà persone competenti faccio dei nomi un Giuntoli un Tare io finché non è ufficiale Giuntoli vi dico i nomi che in qualche modo potrebbero dare una mano alla Juventus un Tare un Carnevali cioè personaggi che sanno fare il loro mestiere e che hanno fatto la gavetta e che hanno esperienza se vanno a prendere un allenatore che ha idee di calcio dite voi quello che volete a me non interessa cioè fa fuori quelli che ci sono adesso che non sono in grado non sono ad altezza allora la Juventus potrà pensare a ricostruire e quindi torneremo ai costruttori se invece lascerà Allegri se invece lascerà Cherubini o andrà a prendere un direttore sportivo alle prime armi oppure cambierà Allegri prendendo un allenatore lo dico subito Palladino a me piace al Monza ma alla Juve no io non voglio Palladino io non credo che Palladino sia pronto alla Juventus se venisse Palladino lo dico proprio in maniera chiara mi espongo subito io non faccio parte della categoria che chiunque venga al posto di Allegri faccio festa io Allegri non lo voglio più e lo voglio mandare via ma non è che io per sostituire la Turina ci metto la Mazzamauro io per sostituire la Turina vorrei Belen o la Hunziker così i primi nomi che mi sono venuti in mente quindi signori belli questo è quanto i distruttori hanno cancellato tutto quello che di buono hanno fatto i costruttori ora aspetta al nostro Ponzio Pilato John Elkan dare una svolta verso un lato chiaro o un lato oscuro alla nostra Juventus quello che accadrà fuori ripeto è un riverbero delle sciocchezze degli errori commessi da Agnelli che nel lato oscuro ci è caduto a piedi pari veramente a piedi pari se uno volesse fare anche un po' il moralizzatore che non è il mio caso potrebbe anche dire che era sposato con una moglie e ha portato via la moglie all'attuale facente funzione che c'è alla Juventus cioè Calvo perché non so se sapete che l'attuale moglie di Agnelli è l'ex moglie di Calvo e che gliel'ha fatta sotto il naso c'è stato c'è un un youtuber Vessicchio si chiama che io lo trovo lo trovo simpaticissimo a volte magari va un po' fuori dalle righe ma lo trovo simpaticissimo che ha fatto proprio un video su questa cosa se lo volete andare a vedere mi permetto di dirlo perché a me ha fatto sorridere però dice cose che onestamente ti fanno riflettere poi puoi condividerle o meno ma ti fanno riflettere comunque al di là di questo adesso la Juventus è veramente in un momento dove deve prendere una direzione un guado un bibio chiamatelo come volete verso la luce o verso il buio nel buio ci siamo già sprofondati ora aspetta a Ponzio Pilato o chi per esso che prenderà il posto di amministratore delegato e che gestione della gestione completa della società a vedere dove andremo a finire che ne sarà di noi che ne sarà di noi staremo a vedere good night Juventini Grazie a tutti